Quanti paesaggi meravigliosi si incontrano facendo questa salita. Camminare si vedono certi paesaggi bellissimi e poi Poti merita. Dall'alto si vede tutta Arezzo che è qualcosa di spettacolare. Ti mette una pace dentro che, insomma, camminando è veramente spettacolare, bellissimo, merita. Gli aretini si ritrovano comunità nella montagna di Poti, quella montagna dimenticata, trascurata, ma rimasta sempre nel cuore di tutti. Veramente, bisognerebbe che anche il comune e tutta l'amministrazione si prendessero l'impegno di far rivivere quello che c'era di bello quassù, perché Poti una volta era vissuto dagli aretini come veramente un posto di ritrovo, di vita, sull'albergo, io mi ricordo c'erano i giochi, ero piccolina quegli ampi, però con il babbo e la mamma ci si passava dei bei momenti qua sopra. A riaccendere i riflettori su questa parte del territorio aretino è stata la mente vulcanica di Mauro Valenti, che ha così declinato in una camminata per Poti il mancato festival che doveva tenersi proprio qui. Una due giorni organizzata dalla Fondazione Arezzo Wave con il Calcit, dove la musica avrebbe aspettato e accolto i camminatori partiti da Arezzo, purtroppo fermata dal Covid. Sto a Arezzo, come penso quasi tutti questi, e tutti quando si alzano mattina si guardano a Poti, perché c'è il sole, vedi Poti, pioverà, guarda i Poti, cioè è proprio una cosa che fa parte di noi, quindi cercare di farla rivivere come quando i miei genitori andavano su, che stavano vacanti, cioè andavano, sembravano essere a Svizzera, mi dicevano. Cioè, facciamo questo tentativo per far riprendere vita a quest'area di Arezzo. Aspettando Poti a piedi è stata comunque una bellissima giornata. Gli ingredienti, una camminata non competitiva di 20 chilometri, organizzata dall'Associazione a Piede Libero di Arezzo, con gruppo Sentieri di Ieri, Guidi Ambientali, gruppo di Cammino Wisp. Pranzo al sacco davanti al vecchio albergo, un altro luogo da salvare, e offerte al Calcit. La giornata offre spunti anche per il prossimo sindaco di Arezzo. Ma anch'io penso che, insomma, non è possibile che non ci sia nessuna attenzione. No, d'altra parte è stata ripristinata la strada sterrata grazie al Giro d'Italia, no? E ora le strade, sia quella asfaltata che quella sterrata, sono tutte e due percorribili bene. Alla fine qui si tratterebbe di rimettere un pochino, fare un po' di pulizia e creare un punto dove la gente arriva qua, magari può prendere un caffè, può prendere una bottiglietta d'acqua. Alla fine non è un grande lavoro. È una questione di volontà e questa volontà bisogna che qualcuno la trovi. C'è di mezzo il calcio, il Tappiadi Libero, potrei fare una lista infinita, l'ingegner Cardinali, tutta gente che col cuore ha detto io vorrei che questo posto rivivesse. Quindi il nostro impegno, anche il vostro, io vorrei che fosse anche politicamente, io non sono politico, però questi sindaci o candidati potrebbero esprimersi su che cosa se ne fa di questo posto, che non c'è manco un caffè, non c'è manco una bottiglia d'acqua, non c'è manco un gelato, non c'è manco niente, uno va su e non trova niente. Quindi se potessimo farlo ripartire sarebbe una conquista per tutti.